Oh dai minchia ho mandato il video di Outlast ieri Vediamo quanto sta ma non ci saremmo arrivati a 6 like What the fuck? Grazie ragazzi arriverà subito il vostro video di Outlast quarto episodio Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Master Dash Oggi siamo tornati su Outlast Allora finalmente l'ultima volta siamo riusciti a superare il pezzo dello scantinato dove dovevamo riavviare Ci avevo messo un botto di tempo tipo ero bloccato lì da mesi Era anche una di quelle opzioni per quello che non volevo fare Outlast Allora l'ultima volta siamo rimasti qui dove si risveglia questo tizio Che si ritrova in questa stanza Che ok Allora andiamo qui Che fai qua? Grazie sei molto gentile Eh la madonna Va a tenere calma Va a tenere calma Va a tenere calma Calmo Oh Oh calmo Ok è chiusa Oh cosa fai? Stai calmo Ovviamente questa qui sarà chiusa Ok lo sapevo già benissimo Troppe voci mi hanno seguito e non dormirò più Sei come mezzio Allora apriamo sta porta Pronto? Nessuno mi cade Oh porca puttana Oh minchia mi sono cagato addosso Oh minchia mi sono cagato addosso Ciao bello Minchia E questo chi è? Sa La madonna Che c'avete a questo del cazzo? Una proboscide di elefante Ehm ok Ehm salvataggio No adesso ci c'è Perché quello si chiude la porta? Ok Ehi ciao come va? Aiuto paura Vediamo c'è un cazzo Allora Allora Andiamo di qua Oh Oh Carca città Stai calmo Dicchia Ma hai fatto venire un colpo Oh tutti eh Bella raga Questa qui E' chiude E' chiude Troppi spaventi in mezzo secondo Cami Se nemmeno sangue voglio uscire lo so Non mi far male vero? Cosa fai? Cosa fai? Ah beh Mi sembra una cosa giusta da fare Quando sei solo Vero? Si Mi sembra una cosa molto giusta Da fare Basta dormire Spazio Pesce Mi piace tutto Chiuso Puttana Cosa stavano aspettando per noi In questo paese Oh che c'è il cazzo Oddio Oddio Ok Dobbiamo andare qui Ok Bello Cosa fai? Cosa fai? Oh dammit What the fuck Ehi tu Hai Prima Allora figa Andiamo di qua Ma siamo dalla parte di Di quello lì Del tizio di prima Ok Allora Dobbiamo passare Per essere un muovo Di questo di esse Segui Le scie di sangue Ok Segui le scie di sangue Bello proprio Andiamo Figa Vediamo cosa c'è qua Oh Sono tutti tirchi qua Tutti i giochi Sono tirchi Non ci danno mal con una batteria Ok Allora Questa è chiusa Va bene Lo so che devo Seguire Le scie di sangue Ma non è una bella idea Che cazzo lì c'è? Andiamo a darvi sotto Ok Apriamo questa Chi c'è? Pronto? C'è nessuno? Ok Le porte alle tue spalle Renenterai in seguito Chiudendo le porte alle tue spalle Renenterai i seguitori Ok I like you to stay quiet Ok Allora Qui c'è? Corri 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 Oddio Qui c'è qui Qui c'è qui Qui c'è qui Che culo Qua c'è il tizio Che non vorrei vedere Qua il tizio C'è sempre Non c'è Ok Attiviamo questo Ok Figo Ok Andiamo di qui Oh Oddio 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 Che cazzo è? Era quello di prima? Ok Andiamo qui Oddio Dove siamo? Allora È chiusa Meglio per noi A posto Oh I due mazzoni Come state? Tutto bene? Un esempio di paziente Ok Ci volete picchiare Vero? Previ spazio Mentre ti muovi Ok Andiamo A destra Cosa c'è qui? Apre Questa qui È un'elettronica Per Ok Ma qui Non si apre Questa? Ok Su veramente Doveva andare là Ok Ok C'è ci c'è un Apri Ok Cosa c'è? E ci passiamo Per le docce Ok Giuro ragazzi Che quel tizio L'ho visto soltanto adesso Non lo sapevo No Qui Ritorniamo di nuovo Qui Ok Qua c'è un pulsante Apriamolo Oddio Oddio C'è ciccioli No 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 Insomma di qui Oddio E' un pulsante E' un pulsante E' un pulsante E' un pulsante Atomica Comunque Credevo che non ci Non ci riuscivamo Però comunque Siamo riuscire La camera è salva Basta che Deve portare solo qui Oddio Beh Trovo un altro modo Per accedere Alle Oddio Trovo un altro modo Per accedere Alle docce Credo ragazzi Che noi ci possiamo salutare qui Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Mi sono lasciate Al like Invenuto Ad iscriviti Grazie Se avete fatto Sai like Il prossimo video Di Hotlast E ci vediamo In questo video Ciao ciao